Il bramito è una caratteristica manifestazione vocale del maschio nel periodo degli amori. Questo periodo è sicuramente il più favorevole ed emozionante per avvicinare questo cervide nel bosco seguendo appunto il bramito. Con l'aumentare dell'eccitazione sessuale i maschi appaiono irrequieti, soffregano il trofeo contro cespugli e alberelli e spesso sfogano il loro nervosismo raspando e colpendo il suolo con i palchi. I periodi più favorevoli del bramito sono all'alba alle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio verso l'imbrunire con l'arrivo del fresco. Al culmine del periodo riproduttivo, durante le notti illuminate dalla luna, l'attività del bramito a volte può continuare sino all'alba del giorno successivo. Questi scontri vocali hanno importanza nella definizione della gerarchia.